È giusto avere sempre con sé i presidi, sia che andiate al lago, che andiate in montagna, che andiate in piscina, che andiate al mare, perché dobbiamo ricordarci che il coronavirus non va in vacanza. Estate, tempo di svaghi, ma attenzione perché il Covid non va in vacanza. E allora il luglio che stiamo vivendo è sicuramente inedito, diverso da tutti quelli visti fino a oggi. Dovremmo continuare a tenere alta la guardia, giusta la distanza, utilizzare tutti i presidi sanitari come i disinfettanti e le mascherine. Da buoni italiani non ci siamo smentiti, quindi abbiamo voluto anche per quanto riguarda le mascherine dettare un po' la moda. Abbiamo avuto richieste, abbiamo avuto diversi produttori, anche alcuni stilisti, che hanno prodotto delle mascherine molto belle, anche fashion. E c'è richiesta da parte, talvolta delle signore e anche da alcuni uomini, di avere delle mascherine un po' diverse dal solito. Già, anche in tempo di Covid lo stile, soprattutto d'estate, vuole la sua parte, per grandi e per piccini. Per quanto riguarda le mascherine per bambini, non esistono mascherine monouso, perché sono dimensionate esclusivamente per l'adulto. Quindi i bambini devono utilizzare delle mascherine che siano riutilizzabili, cioè lavabili. Abbiamo alcuni tessuti molto belli come questi, che sono in seta, sono anche confortevoli e permettono di proteggere anche il bambino. Insomma, con stile, con materiali freschi, più confortevoli, ma stiamo allerta. È giusto, visto che abbiamo fatto tanti sacrifici, stare ancora un po' attenti per evitare un ritorno.